Siamo nella Chiesa, apparteniamo alla Chiesa, siamo battezzati, siamo figli di Cristo, abbiamo la stessa fede, bene, chi appartiene a questa società che si chiama oggi il popolo di Dio, che si chiama la comunità cristiana, ebbene deve sapere che questa comunità è organizzata e non può vivere senza l'innervazione di una organizzazione precisa e potente che si chiama la gerarchia. Figlioli miei, che la gerarchia che vi sta parlando, che il vicario di Cristo è davanti a voi, vi dice questo, che non siamo fatti tanto per comandare, quanto per servire. Posso domandare, figlioli carissimi, questa grazia che voi certamente non mi rifiutate. amate il Papa. Amate il Papa, perché senza alcun suo merito e senza certamente alcuna sua ricerca, gli è capitata questa strana, singolare vocazione di rappresentare il nostro Signore. Non guardate a noi, guardate al Signore di cui rappresentiamo. Chiamo al vostro servizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.